Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, è il gioco del pensiero unico, ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza e incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, 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 genitore 1, 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 genitore 1, genitore Ma noi non siamo persone, noi siamo LGBT e difenderemo la nostra identità. Voglio dire che non credo in uno Stato che mette il desiderio di Giorgia di fronte al diritto di un uomo sessuale. Uno Stato giusto si occupa del più debole, di quello che non si può difendere da solo. Uno Stato giusto si occupa del più debole.